Ciao Diego, ok, allora, adesso iniziamo un attimino a entrare più nel dettaglio, non tanto dell'arma, ma io suggerirei di iniziare a fare una classificazione di impiego dell'arma, cioè mi spiego meglio, diciamo che potremmo individuare in questa macro famiglia, diciamo tre settori, anzi due principali, uno dove la destinazione di impiego dell'arma e quindi l'esigenza dell'utente magari è più proiettata verso un impiego professionale e poi entriamo nel dettaglio sul perché professionale e l'altra magari quella più relativa a un impiego ludico sportivo. Su quella ludico sportivo ti chiederei, se possibile, capire se c'è una differenza anche tra le varie fasce, quindi tra una fascia più alta e una fascia più alta in base alla customizzazione che parte dall'entry level dell'arma, quindi se tu sei d'accordo e se possiamo iniziare a fare un ragionamento del genere. Sì, direi che come approccio lo ritengo molto valido anche perché effettivamente l'idea con cui nasce la DR-15 è quella di realizzare un'arma cucita sulle specifiche del cliente, non di darti un'arma qualunque che poi si andrà a modificare col tempo, no, scegliamo prima come deve essere, cosa ti serve, quella che ti è più comoda e realizziamola direttamente su misura per te. Nello specifico della visione più ludico sportiva dell'arma che interessa tanti tiratori, che possono essere sia a livello amatoriale che a livello agonistico, chiaramente avranno esigenze diverse, noi proponiamo dei setup, delle realizzazioni che partono chiaramente da un livello più basico, entry level, che è anche più di facile approccio, io scherzando tante volte... Quindi immagino tipo, stiamo già parlando di questo... Esattamente, quello potrebbe essere il classico setup base di una R-15, una piattaforma R-15, come stavo dicendo, io a volte scherzando dico è un po' come un neopatentato che mette mano a una Ferrari, sicuramente non la riesce a sfruttare. Lo stesso un tiratore alle prime armi, approcciandosi in maniera più semplice a un'arma che è anche più facile da gestire e da sfruttare, può piano piano aumentare la sua conoscenza, aumentare la sua pratica e poi eventualmente andare a fare degli upgrade. Allo stesso modo un tiratore agonista che ha già conoscenze e necessità molto più evolute può richiedere una carabina espressamente studiata per lui. Certo. Ad esempio qui abbiamo un classico entry level. Esatto. Poi entry level già qui, per esempio, che non è da sottovalutare il fatto di avere una calciolatura con regolazione, cioè quindi regolazione in estensione in base alla corporatura del tiratore, non è sempre scontato che si trova, anche se ora in commercio già è più facile reperire. Dopodiché sicuramente qui abbiamo pochi accessori, anzi quello che esce dalla casa. Sì. Allora questo in particolare è un allestimento che vuol tenere molto fede all'allestimento militare di un M4. Comunque la mia filosofia è quella di realizzare un'arma che di base sia compatibile con le tolleranze min-spec. Quindi potrà montare qualunque accessorio un domani, tubi buffer, min-spec, tutta quella che è la misura di perni, molle, componentistica interna, barrel extension, barrel nut, spegni fiamme, tutto a quote mill. Quindi anche nel fucile base abbiamo la certezza di poter in qualunque momento fare un upgrade e montare qualunque accessorio che sia chiaramente costruito su queste tolleranze. Ecco io qua vorrei dare un contributo proprio sull'aspetto min-spec. Ci sono specifiche militari che riguardano appunto le tolleranze o le unità di misura, vedi i piccatini o vedi perni usati o le molle stesse, quindi la fattezza della molla, il gruppo scatto o meglio il grilletto, la forma stessa, ma quella che può essere un'esigenza che nasce come lezione appresa sul campo è proprio data alla tolleranza allo sporco, tolleranza alle polveri, tolleranza al calore che chiaramente andranno ad incidere su quella che è l'accuratezza nel tiro perché avremo sempre una struttura bassa, una struttura alta che avranno delle tolleranze molto relativamente maggiori, passiamo il termine, nel momento in cui io voglio ridurre queste tolleranze quindi schiaccio tutto, l'arma è molto più stabile ma allo stesso tempo un minimo granello qualsiasi cosa entra dentro dovuto da appunto sporco, polvere, calore o altro va a creare dei malfunzionamenti che appunto in un contesto operativo mi creano un problema difficilmente riparabile. Si, quello che hai detto è giusto, è una considerazione molto importante da fare, teniamo però conto che pur mantenendo la compatibilità dimensionale delle tolleranze si può avere un'arma preparata con dei componenti delle parti che ti garantiscono comunque una prestazione di alto livello, alcune tolleranze sono ampie per il motivo che hai detto o per il fatto di dover poter interfacciarsi con componenti di vari produttori, però comunque il sistema R15 ha dalla sua parte lo studio su cui si è basato all'inizio che è proprio quello di essere un'arma intrinsecamente precisa e con un'ottima prestazione concentrando le tolleranze strette nelle parti che saranno fondamentali alla precisione di tiro, poi chiaramente un'arma espressamente da tiro a livello di canne componenti avrà delle esigenze diverse e lasciando su tutte quelle che sono le parti che potrebbero darti il vero problema sull'impiego ma anche l'uso sportivo sul campo di tiro, nel tiro dinamico dove si sparano diversi colpi comunque sia all'aperto ci può essere della presenza di sporco riuscire a inquadrare bene cosa serve come componente di alta precisione e tra virgolette schifinoso allo sporco definiamolo così e cosa invece non è fondamentale è una cosa che reputo molto importante proprio per ottenere un'arma che ti sappia dare l'affidabilità che è la prima cosa che serve perché avere un'arma precisa che non spara non serve a niente, altrettanto un'arma affidabile ma che spara come un annaffiattoio non ha molto senso quindi comunque quando andiamo a creare un'arma a creare un setup spesso ci vengono chiesti componenti accessori andiamo comunque a dare un suggerimento dove magari perché ho già visto perché mi è già capitato perché ho comunque esperienze se non dirette mie di persone che conosco di cui mi fido che tali componenti accostati assieme non diano la massima performance quindi è proprio l'importanza di un setup che ti riesca a dare in questo caso un'arma di aspetto estremamente marziale semplice base ma affidabile e comunque con una precisione che sia più che accettabile e anzi spesso e volentieri con una buona munizione perché poi subentra anche quel concetto lì ti possa dare delle soddisfazioni nel tiro chiaramente ad esempio qua come tu avresti di come divideresti questa famiglia ma allora la famiglia principale allora si parte dall'allestimento standard di una r15 m4 che poi possa essere una diciamo impostazione m4 m16 il concetto cambia poco se vogliamo implementare questa modello base sull'utilizzo sportivo ludico professionale che sia ci saranno certi componenti e certi accorgimenti che solitamente andiamo a consigliare per esempio questi sono tre esempi dove il cursore si può spostare sull'utente sportivo un primo passaggio è sicuramente passare a dei guardamano free float senza il delta di mira il montaggio di dispositivi in volata come spegni fiamma compensatori freni di bocca più appropriati al tipo di tiro che si andrà a creare chiaro prese gas regolabili spostare la presa gas farla diventare una mid length anziché farla rimanere una caravan io ad esempio consiglio la caravan in più sull'arma tattica che è un pelo più over gassed quindi anche ad arma sporca ti permette una più affidabilità ti interrompo su questo perché secondo me è molto interessante capire cioè saper spiegare comprendere la differenza che c'è nella posizione del recupero dei gas cioè da che punto io riesco a recuperare i gas e quindi che beneficio ne avrò se questo determinato punto sarà più verso fine canna quindi verso diciamo la volata dell'arma o più vicino sicuramente temperature e pressioni entrano in gioco e sicuramente è un discorso delicato perché non è che è libera l'interpretazione ma ci sono delle misure ben precise a tenere conto e se non si rispettano si potrebbe avere un'arma che perdi in affidabilità